Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, buon pomeriggio. La botta è stata dura, l'atroce delusione, la sorpresa nel vedere due partite consecutive nella manifestazione e nel momento più importante della stagione, due partite completamente fallite. Però, cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivermi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ormai sembra chiaro, direi togliamo il sembra, è chiaro. È finita l'avventura di Stefano Pioli al Milan. E allora ritornare su quello che non sia andato ieri è inutile. Personalmente io non sono deluso dai giocatori. Ieri Pioli ha detto che non mi sono piaciuti, però sinceramente sul piano della volontà io non ho nulla da dire ai giocatori. Sul piano, certo, della qualità del gioco si poteva fare meglio, ma già sono stati dei progressi rispetto al piatto della partita contro la Roma alla previa di andata. Ma, secondo me, parliamo di cose concrete, la disposizione tattica di quella partita che Pioli ha studiato, ovviamente non per favorire la Roma, ma per favorire il Milan, è stata sbagliata. Hanno sbagliato le mosse i più grandi generali, greci, macedoni, romani, i grandi generali del 1600, i grandi condottieri, hanno sbagliato e hanno perso. Ha sbagliato Stefano Pioli. Secondo me ha sbagliato Stefano Pioli, cercando ovviamente in buona fede di trovare delle soluzioni, ma le soluzioni hanno aggravato forse la situazione. Con Luca Diddi ho già parlato, in via eccezionale, domani mattina, e magari ci sarà una replica in giornata, domani mattina metterò l'intervista che effettuerò questa sera con Luca Diddi. Tatticamente mi ha fatto vedere due o tre cose che ci aiutano a capire perché ci sia stato questo naufragio nelle, ripeto, nelle due partite più importanti della stagione. Perché con lo Slavia Praga e con il Ren, signori, il Milan è meglio. Vediamo se c'è qualche novità. No? Quindi il Milan è meglio, ero sicuro che vincesse, infatti ha vinto. Primo ostacolo, Roma, fallite tutte e due le partite. Ma adesso dobbiamo smettere di parlare del passato, ma dobbiamo parlare del futuro. Adesso siamo tutti d'accordo che il Milan non può sbagliare. La scelta, la scelta, bisogna capire quale sia la scelta per il prossimo allenatore. Bisogna capire quale sia la scelta per il prossimo allenatore. Il prossimo, la scelta del prossimo allenatore non si può sbagliare perché è l'allenatore che deve ricostruire dopo cinque anni che ci hanno portato uno scudetto, una semifinale di Champions e con una buona base, grazie appunto alle mosse del management, ci saranno delle altre mosse. Si cercherà il centroavanti, il difensore centrale o il difensore di fascia, il centrocampista o i centrocampisti. Ma l'allenatore è fondamentale. E allora che cosa dobbiamo o possiamo dire dell'allenatore? Allora, parlavo anche questa mattina con Franco Ordine e Franco mi diceva, ma guarda, la scelta che dovrebbe essere quella più logica per dare una svolta al prossimi anni del Milan sarebbe quella facile da capire di Antonio Conte. Però da mesi, da quando Luca Momblano ha parlato, ha ricordato, il mio collega di Tele Lombardia, dei contatti con Ibra, che al Milan questa soluzione mi è sempre stata poco confermata, sempre raffreddata, ulteriormente si è raffreddata e l'ha detto appunto anche Luca Momblano quando ha saputo che Conte starebbe per prendere altre strade, non so sinceramente quali. Detto questo, io non sono un venditore di fumo e non mi interessa anche se sono belli i clickbait, non sono un venditore di fumo, io devo cercare di dire quello che so, perché sarebbe bello dire tutti i giorni che arriva Conte e il Milan sta contattando Clop. Sicuramente sarebbero tutti contenti che io dicesse che arriva Conte, non mi risulta uno e certamente non mi risulta neanche l'altro per adesso, magari qualcosa cambierà, magari mi illudo. Quindi che piaccia o non piaccia, che mi tiriate il martello di legno come al grillo parlante di Pinocchio, Conte non mi risulta che sia in questo momento, ma da settimane lo dico, una soluzione possibile. Tiago Motta sembra destinato ad andare alla Juventus, non ho avuto grandi conferme sugli altri di cui si parla, i Palladino, i Farioli, i Sarri, quindi non mi risulta. Bisogna vedere la pista estera, la pista estera abbiamo visto Lopetegui e Potter, proprio questa mattina mi hanno detto né Lopetegui né Potter e allora non ho proprio chi possa essere, si è parlato di Fonseca che sta lavorando bene nel Lille. In Germania Nagesmann potrebbe essere una soluzione, ma ha rinnovato con la nazionale tedesca. Abbiamo letto la settimana scorsa Marcus Rose, allenatore dell'Ipsia, anche lui sotto contratto con l'Ipsia, è terzo o quarto in classifica, bei campionati dell'Ipsia, non so se possa essere quello. Poi c'è sempre l'incognita, l'allenatore straniero, l'allenatore straniero può essere tutto e niente, tendenzialmente non mi ha mai sorpreso l'ipotesi che il Milan andasse dall'allenatore straniero, non mi ha mai sorpreso perché questo allure internazionale di Cardinale, dei Redbird, mi fa propendere per queste soluzioni, anche perché forse ritengono che in Italia non ci siano le figure, eccetto ovviamente, abbiamo sempre detto Antonio Conte, delle figure che possono dare delle garanzie per un miglioramento. D'altra parte l'allenatore, quando tu prendi un allenatore, è sempre un'incognita. Berlusconi ha indovinato in maniera splendida, grande intuito con Sacchi, ma dopo la partita con le Spagnoli se ci fossero stati social sarebbero esplosi. Ha indovinato con Capello e lì non sarebbero mai esplosi perché il Milan ha sempre vinto, quindi non ha mai sbagliato. Ha provato con Zaccheroni che vince il campionato, non è andata male con Terim e Tabarez, è andata bene e lì era una garanzia Ancelotti, ma attenzione, allora era considerato un allenatore perdente. Va a prendere a Cagliari, ha provato con Leonardo, ma non è andata bene. Ha provato con Allegri che viene da Cagliari, quindi non da un top club, dopo aver allenato non in top club e l'esperimento è andato molto bene, con un secondo posto sappiamo come, ma prima con il conquista dello scudetto numero 18, perché poi il diciannovesimo è questo con Pioli. Quindi sono sempre delle incognite, volete dei nomi, in questo momento dare dei nomi secondo me è poco serio nei vostri confronti. Posso dire quelli che non verranno, cominciamo a scartarli, ma voi mi direte qualchi è che verrà. E lì bisogna vedere poi quando incomincerà a mettere la sua griff, le sue decisioni, Zlatan Ibrahimovic. Anche ieri ho letto che ci sarebbero stati contatti con Conte, ma a me non risulta questo, a meno che il Milan abbia due anime, ma sarebbe la cosa peggiore se un'anima mi dice A e un'altra anima poi fa B. Quindi anche questo è da valutare. Serve un allenatore di carisma, un allenatore non deve andare a prendere delle macerie, perché va a prendere una squadra che è arrivata a seconda e fare le prime otto, anche se è triste dirlo, in Europa League. Quindi una squadra con delle motivazioni, con dei buoni giocatori. Giocatori che hanno deluso, ho letto critiche feroci su Teo Hernández, su Leao. Io dico che ieri i giocatori sono ingiudicabili, perché si sono trovati a, innanzitutto, due gol dopo pochi minuti. Ma dopo la partita contro la Roma all'andata, anche Sassuolo è stata una partita strana. Poi il solito spiritaccio, il solito cuore ha permesso al Milan di sfiorare addirittura la vittoria dopo essere stato sotto 2-0, 3-1. Però la squadra in questo momento ha bisogno di certezze. Aveva bisogno di certezze e Pioli invece ha messo, secondo me, ulteriore incertezze, non mettendo render. E anche i cambi durante la parità. Signore, un allenatore può sbagliare e ieri, secondo me, ha sbagliato. Purtroppo ha sbagliato per il Milan. Ecco perché dico purtroppo. Nella partita più importante, nella partita più delicata, nella partita delicata per lui e per il Milan. Il Milan si trova fuori da una coppa dove sono quattro squadre, tutte abbondantemente alla parata del Milan. Metto dentro anche il Bayern Leverkusen, se il Milan fosse il Milan contro il PSG. Ma Atalanta, Marsiglia, la grandissima sorpresa. Atalanta, Marsiglia, la stessa Roma che il Milan ha distaccato di 10 punti o più in campionato, oltre che il Bayern Leverkusen che non conosce sconfitta, mi sembra che fossero degli avversari alla parata del Milan. Adesso quindi andiamo a valutare, vi terrò al corrente su qualsiasi voce io possa avere. Purtroppo sono voci più per i no, nel senso questo non viene, questo non viene. Però spararvi un nome giusto per la vostra e per mia soddisfazione mi sembra totalmente poco serio. Continuo a essere sul no di Conte perché continuano a dirmi così. Mi dispiace deludere, anche se tutti lo ritengono, l'allenatore ideale. Ma dato che chi decide non lo ritiene, almeno fino a oggi, l'allenatore ideale, dobbiamo prendere atto di questo. Il Milan riprende gli allenamenti oggi, poi parleremo di derby. Vediamo che cosa si organizzerà a livello mentale, a livello di orgoglio. Le parole della curva sono state forti ieri, non si può transigere. È una vittoria figlia della soddisfazione di aver fermato una valanga di sconfitte nel derby. Nient'altro, perché poi l'Inter, invece di festeggiare, speriamo di no, lunedì lo festeggerà la settimana prossima e sarà un mese un po' pesante per un Milan, fuori da tutto. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di tutti i cari obbligati, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Grazie a tutti.